La location perfetta per organizzare matrimoni a livello internazionale. Ci siamo specializzati in particolar modo con l'esclusività dell'hotel e della villa e in questo modo riusciamo a personalizzare i matrimoni in un modo straordinario. L'esempio è proprio il matrimonio di questi giorni, uno degli eventi più importanti dall'apertura del nostro Bibola Sart Hotel Villa Amistà. Una combinazione tra l'antico e il nuovo, una villa del Cinquecento concepita come una galleria d'arte contemporanea viene apprezzata da tutto il mondo direi perché è unica nel suo genere e abbiamo degli spazi fantastici, 20.000 metri di parco davanti e dietro la villa, una piscina meravigliosa dove possiamo organizzare dei cocktail di benvenuto, la possibilità di organizzare anche la cena di gala non solo nel nostro ristorante ma anche nella hall. È un posto veramente ideale per poter ricordarsi nel tempo l'evento straordinario presso di noi. Noi vogliamo regalare delle emozioni, un sogno e credo che al termine di un evento se lo potranno ricordare per il resto della vita. Noi siamo in grado di poter fornire tutti i servizi possibili. Noi siamo in grado di poter fornire tutti i servizi possibili. Quello che voglio regalare ai nostri ospiti è proprio un sogno. Uscire, noi lo diciamo in inglese, ma there was a dream, perché questo è proprio quello che vogliamo lasciare, lasciare un segno importante del nostro hotel. iscriviti al canale Grazie a tutti. Grazie a tutti.